Non è stato però più irresponsabile magari aver infilato l'Inghilterra e l'Europa tutta in un caos che non si risolverà da qui, minimo a tre mesi per i primi negoziati e poi due anni? Ma di quale caos stiamo parlando? Perché se parliamo del caos dei mercati finanziari e questa è la vera esigenza che probabilmente alcune persone hanno fretta di andare a quietare, di rendere gli investitori più tranquilli, più sereni in modo che si possano creare meno problemi in seguito a delle speculazioni, forse potrei essere d'accordo. Ma per chi fa economia vera e chi vive una vita reale, da qui ai prossimi tre mesi, guardi che non cambierà molto, non ci saranno degli sconvolgimenti enormi. Non sono d'accordo, Begin, perché chi lavora, un italiano che sta lavorando adesso nelle banche londinesi... Stiamo parlando sempre di banche. Come? Stiamo parlando sempre di banche. No, no, io parlo di un italiano, di un italiano che magari lavora a Londra e probabilmente ci lavora in una banca dal momento che Londra è animata dalle banche, questo non è un argomento, è un dato di fatto. Quell'italiano, quella banca può darsi che decida di spostarli comunque verso Dublino per essere sicura di poter continuare a operare anche in futuro. Quindi non è un fatto che riguarda solo le banche, riguarda anche un italiano che lavora alla sua famiglia, penso. Ma certo, guardi, ci sono tantissimi trattanti internazionali che noi in questo momento stiamo negoziando, mettendo a rischio 3 milioni e mezzo di posti di lavoro in Europa per il mancato riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina, o 1 milione e 300 mila posti di lavoro per il TTIP e nessuno sembra preoccuparsene di queste cose. Quindi è chiaro che ci saranno delle problematiche contingenti. Ma no, a livello di contrattazione mi dispiace, il Consiglio europeo in questo momento si preoccupa relativamente. Stiamo decisamente mettendo tanta enfasi su un problema che è reale e che c'è oggi, ma l'enfasi maggiore, mi dispiace, va messa sui motivi che ci portano oggi e non sugli effetti che abbiamo. Se noi queste cose non le sistemiamo, e questo sì rapidamente, sì che ci sarà un caos, ma non per la Gran Bretagna, per tutta l'Europa e per tutti i cittadini europei. Questo è un focus che bisogna prendere in considerazione, però sembra che oggi nessuno lo voglia fare e continuano ad attribuire ad altri responsabilità che loro stessi hanno per un unico e semplice motivo. Loro stessi sono parte del problema e si propongono come una soluzione che chiaramente non potrebbero mai trovare. Allora, se l'Europa veramente vuole porsi come, in questo senso, come un'Unione europea solidale che ha interesse a portare benessere a tutti i cittadini, prende delle scelte completamente diverse e a livello di Consiglio non si dovrebbero nemmeno porre le problematiche, le tensioni che ci sono su tantissimi argomenti che noi vediamo di riflesso poi al Parlamento europeo, sui quali c'è una troppo grande divergenza di opinioni perché si spingono interessi nazionali. Quindi oggi tutti quanti in un grande bagno di ipocrisia difendono l'Unione europea e attaccano gli euroscettici. Ma quando c'è da fare il lavoro concreto per dimostrare un'Europa solidale con i popoli, si tirano tutti indietro. Questo è quello che va fatto. Al di là di tutto e al di là sicuramente dei problemi che ci potrebbero essere nei prossimi tre mesi, ma che sono infinitesimali rispetto ai problemi che noi avremo nel futuro. Perché questa Europa, se non cambia, morirà.